Nell'estate del 2016, due volontari di un ente di beneficenza africano per la tutela e la salute degli animali, la dottoressa Lisa Maralini e il dottor Keith Datlow, erano impegnati a lavorare nel caldo torrido del parco nazionale di Manapools, nello Zimbabwe. Infatti, di recente avevano finito di curare un elefante ferito, ed ora erano alla ricerca di altri due elefanti feriti per cui gli era arrivata una segnalazione. I due si spostavano velocemente. Sapevano che per rintracciare quegli animali avevano bisogno di tempo, addirittura il più delle volte impiegavano più tempo a localizzare l'animale ferito che a curarlo, ma dall'altra parte erano consapevoli che a quelle povere bestie spesso non restava molto da vivere. Tuttavia, questo non sembrava essere il caso per il loro ultimo paziente, un elefante appunto, che forse è consapevole che avrebbero potuto aiutarlo solo quei veterinari o forse spinto da una genuina disperazione, non ha avuto problemi a farsi trovare. Anzi, è andato lui a cercare i volontari. Nei paesi occidentali la vita, o meglio la sopravvivenza degli animali, è un grosso problema. Ci sono leggi che proteggono gli animali da cacciatori, bracconieri e abusi. Ma purtroppo, questo non è il caso dell'Africa, in cui la maggior parte dei paesi non ha leggi che proteggono gli animali. Pertanto, animali selvatici come rinoceronti ed elefanti sono bersagli facili per i bracconieri e, come conseguenza, molti animali corrono il rischio di estinguersi. Nonostante la mancanza di leggi protettive, Aware Trust è un'organizzazione senza scopo di lucro, sta aiutando gli animali a reagire e soprattutto a sopravvivere. L'organizzazione, fondata dal dottor Kit Datlow e dalla dottoressa Lisa Maralini, lavora da anni per proteggere la fauna selvatica in Zimbabwe. Ma qual è stata la motivazione alla base del ritrovamento dell'organizzazione? Qual è il loro più grande successo fino ad oggi? Kit Datlow e Lisa Maralini sono una coppia sposata che condivide lo stesso interesse, l'amore incondizionato per gli animali. Individualmente sono andati a studiare scienze veterinarie e si sono innamorati della fauna selvatica. Kit Datlow si è laureato in veterinaria presso l'Università dello Zimbabwe nel 1994 e dal 1996 ha lavorato in Zimbabwe, nel Regno Unito e in Australia. Ha accumulato esperienze in questi tempi e poi nel 2004 ha deciso di dare vita all'organizzazione Animal and Wildlife Area Research, AWARE, Trust Zimbabwe, con sua moglie. Anche Lisa è un'appassionata di fauna selvatica. Mentre immaginava il suo futuro, decise di ottenere una licenza di pilota privato nel 1994 e successivamente si è laureata in veterinaria nel 1998. Ha trovato lavoro come veterinaria per piccoli animali in diversi paesi. Tuttavia, la sua passione per la fauna selvatica non è diminuita col tempo e insieme a suo marito ha dato vita a questo bellissimo progetto. Con le loro esperienze individuali e condivise, era certo che i due avrebbero potuto guidare un'organizzazione non governativa veterinaria di successo. Lo scopo è prendersi cura degli animali nelle zone rurali e anche degli animali allo stato brado e negli anni AWARE Trust ha registrato una crescita notevole, ma non senza difficoltà. L'accesso ai finanziamenti è stata una delle maggiori sfide del no profit nelle prime fasi. Infatti, subito dopo l'inizio c'è stato un periodo di latenza di due anni a causa di finanziamenti inadeguati. In un'occasione ci sono voluti circa sei mesi per ottenere finanziamenti internazionali per il loro primo progetto. Alla fine però, con il tempo e la perseveranza, hanno ottenuto finanziamenti adeguati. Non è un lavoro facile quello di AWARE Trust e, in più, è anche pericoloso. Trattare con la fauna selvatica ovviamente comporta alcuni rischi. Gli animali selvatici spesso attaccano gli ufficiali veterinari. Ci sono molti incidenti di agenti che hanno subito lesioni da animali durante il corso del trattamento. Ad esempio, una volta, un rinoceronte di nome Rocky ha colpito il dottor Kit durante il processo di decornazione e l'uomo ha subito lesioni multiple a causa dell'incidente con l'animale. Vi state chiedendo cosa si intende per processo di decornazione? Si tratta di una pratica molto comune che mira a rendere il rinoceronte una preda inutile per i bracconieri grazie all'asportazione del corno, ovvero l'obiettivo principale dei bracconieri, per salvare la vita dell'animale. Se non ha il corno, i bracconieri non sono interessati a lui. Questo è solo uno, in realtà, dei progetti che AWARE Trust gestisce con l'obiettivo di proteggere la fauna selvatica. Altri, ad esempio, sono il prendersi cura dei cani randaggi nei villaggi, la riabilitazione degli animali selvatici in vari parchi dello Zimbabwe e del Sudafrica e i programmi di responsabilizzazione e sensibilizzazione. Quel giorno dell'estate del 2016 non era diverso dagli altri per Kit e Lisa, che avevano appena salvato una vita ed ora si erano messi alla ricerca di altri due elefanti feriti per cui gli era arrivata una segnalazione. Era una giornata normale, i due non avrebbero mai potuto immaginare che stavano per imbattersi nell'elefante più coraggioso e più fortunato del mondo, l'adorabile Pretty Boy. Come abbiamo detto all'inizio, di solito la coppia passa ore a girare con la jeep dell'organizzazione nel parco tentando di localizzare gli animali feriti, ma questa volta, con una mossa del tutto inaspettata, è stato lo stesso Pretty Boy ad avvicinarsi al loro veicolo dopo solo una mezz'ora che lo cercavano. «È come se sapesse che eravamo lì con l'intenzione di aiutarlo», ha detto Lisa. Ma appena lo videro, lo stupore sui loro volti svanì e si tramutò in orrore. L'animale aveva un proiettile conficcato in fronte, la sua situazione era gravissima. Kit e Lisa hanno immediatamente tranquillizzato l'elefante mentre chiamavano i soccorsi e con i giusti sedativi, quando arrivarono gli altri veterinari furono in grado di fornire a Pretty Boy le cure mediche di cui aveva un disperato bisogno. Purtroppo, poiché Pretty Boy ha una testa così massiccia, era impossibile rimuovere il proiettile. Piuttosto, i veterinari hanno rimosso i frammenti ossei alloggiati all'interno dell'elefante, quindi gli hanno somministrato antibiotici a lunga azione per prevenire una brutta infezione. E più lavoravano, più era chiaro a tutti. Pretty Boy era davvero l'elefante più fortunato del mondo. Se il proiettile lo avesse colpito un po' più in basso, sarebbe entrato nel suo cervello e lo avrebbe ucciso. Il giorno dopo la procedura, i veterinari hanno riferito che Pretty Boy si sentiva meglio e si stava riprendendo bene. E speriamo davvero che questa sia la sua ultima interazione con un bracconiere. Purtroppo, il numero di animali che cadono vittime dei bracconieri è in continuo aumento. E l'enorme lavoro che fanno organizzazioni come Our Trust e diversi santuari è davvero qualcosa di meraviglioso. Questo è tutto per oggi ragazzi, se questa storia vi è piaciuta cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.